benvenuti a una nuova puntata di pausa posta si comincia questa settimana in mia compagnia in compagnia perché come ogni lunedì è qui con noi pinuzzo ciao pinuzzo stai zitto pringo stai zitto ma perché è lui sì il mio cane pringo cioè scusi il suo cane pringo fa dei rumori vai pringo bravo stai zitto però adesso pringo vuoi sentire come babaglia no grazie va bene ti faccio sentire pringo pringo però basta quel fai l'altro rumore pringo vai ma scusi ma che cambia i rumori come vuole questo cane cane pringo ma lei doveva venire proprio con il cane oggi ognuno c'è l'animale che si merita io un cane lei è un animale lei michele michele io sono geo lei deve imparare io sono geo ciao legù sono elisa da arcinazzo romano arcinazzo dov'è arcinazzo romano è nel lazio michi sei bellissimo perché queste letterine non le fate leggere quando c'è michele eh infatti geo sei stupenda grazie grazie i miei cordoni preferiti sono bali milo l'estravagante famiglia odd tre gemelli una strega e le magiche scarpe di frani geo sei simile a cristina ghiabotto e michele è simile a nec il cantante in effetti è un po laura non c'è è andata via è un po in effetti tarchiatello un pochino un po bassino si michele dica pringo pringo vai pringo vai fai sentire pringo ma basta questo cane allora già che c'è lei è tanto poi adesso anche il cane io non ce la faccio legga legga ogni giorno dopo scuola mi guardo sempre e poi siete una coppia bellissima grazie un bacio enorme di elisa brava elisa un bacio enorme anche a te facciamo vedere i cani guardi quanto siamo belli io e michele cosa fa mica si commuove con il suo cugino eh mica si commuove nessuno fa il disegno di pinuzzo e no vabbè pinuzzo ci vuole un po di tempo ma tra un po faranno i disegni anche per lei sia tranquillo sia tranquillo vai pringo vabbè ma non si può andare avanti tutta una puttata così finisca di far vedere i disegni della nostra amica il tuo disegno ecco qui sì sì che bella la principessa si si è bellissimo pinuzzo pinuzzo niente panini oggi eh se continui così ah mi vuoi dare i panini che bello no ho detto niente panini che bello mi vuoi dare dieci panini grazie va bene sì prenditi i panini ma tu non puoi capire il contrario ogni volta io dico una cosa capisci il contrario capisco tutto vabbè ciao mi chiamo carlo assieme al mio scogliattolo amtaro tutte le mattine ci svegliamo presto per guardare voi ha uno scogliattolo io un cane pringo guardalo qui sì ci fate tanto divertire ho sette anni e frequento la prima elementare spero che vi piaccia il mio disegno che lo attaccate assieme agli altri disegni allora lo facciamo vedere guarda questo è il tuo scogliattolino meraviglioso pinuzzo pringo stai fermo pringo pringo stai fermo che non vedi scogliattolo pringo è questo è un disegno michele con ste manazze e sozze di nutella non mi tocca il cane mio eh allora io mando un grandissimo bacio a carlo per un bacione grande e questo va subito sul nostro muro un grandissimo bacio puoi coniugare un aggettivo e un complemento aggettuale grazie mille va bene pinuzzo io vado ad attaccare il disegno lei legga legga pinuzzo non leggo più no pinuzzo deve leggere su dai per favore pinuzzo non leggo più va bene va bene non leggere una letterina ma legga legga mi chiamo davide vi scrivo da sassari questa è la prima volta che vi scrivo a undici anni e mezzo i miei cartoni preferiti la mia cartetta preferita è maile seos io volevo inventare il suo cartone animato ho anche un fratellino di nome daniele che è un anno e sei mesi e come metto maile cyrus si mette a ballare chi è maile cyrus maile cyrus siete fantastici non smetterò mai di guardare le colpe perché il mio programma preferito può ci fare il disegno di cuore il disegno di cuore tanti cuori pinuzzo visto? pringo saluta è finita la puntata pringo pringo saluta tu saluta tu pringo ciao a domani non è finita la puntata rimaniamo qui ciao a domani non è finita la puntata rimaniamo qui ciao a domani non è finita la puntata rimaniamo qui